Buon mangiare, l'aria buona... Vito De Filippo, dopo l'estate bollente del centro-sinistra lucano, che visti i presupposti non mancherà di riservarci ulteriori sorprese, indica una rosa di quattro nomi di uomini politici di esperienza, insieme ad alcuni che farebbero parte della cosiddetta società civile. Non sappiamo quanti lucani siano rimasti col fiato sospeso alla notizia. L'impressione, da rimborsopoli in poi, è che ormai sia lumicino l'interesse del corpo elettorale per le dinamiche e le strategie che precedono l'importante appuntamento del voto di novembre. In area PD si è discusso in queste settimane tra le varie posizioni, vorremmo poter parlare di correnti come da tradizione, ma ormai l'impressione è che si stia arrivando al tutti contro tutti. È per questo che entra in gioco la proposta di mediazione interna al PD che il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito De Filippo, ha fatto al segretario regionale del partito, l'onorevole Roberto Speranza, che la esaminerà nella settimana appena cominciata. Il 17 e 18 novembre sono alle porte, c'è una campagna elettorale da preparare ed un programma da scrivere. Occorre pure recuperare terreno sul fronte della credibilità politica. A dire la verità, in questi mesi d'estate qualcuno ha provato a portarsi avanti col lavoro. Non si spiegherebbe altrimenti la frenetica attività di reperimento delle risorse per tamponare le più svariate emergenze. Niente vacanza per gli assessori regionali lucani. In cima a tutti Marcello Pittella, attuale vicepresidente della Giunta, con una mano sulla calcolatrice e con l'altra mano che teneva a freno il terribile duo Folino-Bubbico. Don Vincenzo da Pietrapertosa e generale Filippo da Montescaglioso hanno percorso la Basilicata Coast to Coast per sostenere la loro alternativa ai Pittellas. Parliamo del giovane delfino Piero Lacorazza. E allora De Filippo, in vista delle elezioni regionali in programma per il 17 e 18 novembre prossimo, indica quattro nomi come candidabili alla presidenza della prossima giunta lucana. Vincenzo Santochirico, Salvatore Adduce, Giampaolo D'Andrea e Rocco Colangelo. E anche questa è una non-notizia. Come si dice in questi casi, niente di nuovo sotto il sole. Anche perché, a rigore, la mediazione si fa con un nome singolo, a limite due, ma non su una lista della spesa. La notizia vera è celata piuttosto all'ombra, ovvero nei nomi che non leggiamo quelli che De Filippo ha inserito nella lista consegnata a Speranza, quelli delle persone estranee alla politica istituzionale. Noi non abbiamo ancora letto la lista coperta, ma possiamo rivelare che il nome della società civile gradito a Bubbico e Folino, ovvero il nome di Pasquale Carrano, non è contenuto nella lista presentata da De Filippo a Speranza. La proposta di governatore Vito vorrebbe avere il senso di superare lo scontro fra Piero Lacorazza e Marcello Pittella, che finora sono sembrati i due contendenti più accreditati. Tuttavia, i quattro nomi ufficializzati, essendo tutti di attori protagonisti della vita politica lucana degli ultimi 15-20 anni, difficilmente potranno entusiasmare l'area Bubbico-Folino, che in questa fase sta spingendo, almeno a parole, per l'avvio di un nuovo ciclo politico in Basilicata. La proposta di mediazione non ha tempi lunghi, c'è tempo solo fino al 5 settembre prossimo, data in cui vanno presentate le candidature per le primarie aperte della coalizione di centro-sinistra, in programma per il 22 settembre. L'azione di mediazione all'interno del PD da parte dell'onorevole Speranza, se coronata da successo, potrebbe portare ad un accordo su un nome solo, e ciò potrebbe addirittura evitare le primarie, o comunque depotenziarle. In realtà, come abbiamo provato ad argomentare, un accordo tra le diverse anime del PD è ancora molto lontano. In conclusione, siamo di fronte all'ultimo capitolo dell'eterno scontro nel partito regione tra De Filippo e Folino, ma questa volta, con la Basilicata messa alle corde da una drammatica crisi economica, morale e sociale, i cittadini potrebbero decidere nelle urne la chiusura definitiva delle ostilità.